Figlio di Sidonia Semani, maestra elementare a Prosecco, è Mario Luttazzi, rimane orfano di padre a soli tre anni. Poiché il genitore muore nel 1926 a causa del bacillo di Koch, la mamma si stabilisce nel 1929 a Prosecco, dove riprende a lavorare, e durante le elementari Luttazzi è allievo di sua madre. Nella scuola elementare del paese. Unico italiano in una classe di sloveni. In seguito parlando della sua infanzia il musicista si definirà un bambino triste e pessimista. A causa dei suoi problemi familiari, riceve la prima formazione musicale da Don Critzman, parroco di Prosecco, che gli impartisce lezioni di pianoforte per alcuni mesi nella canonica del paese. Dopo la scuola dell'obbligo si iscrive al liceo Petrarca di Trieste. Li instaura una grande amicizia con un suo compagno di classe. Sergio Fonda Savio, nipote di Italo Svevo, iniziano anche in questo periodo i dissidi ideologici con la madre, che è una fascista convinta mentre Luttazzi si avvicina all'antifascismo. Grazie. Grazie.